Siamo riusciti a concludere un'operazione di export milionaria verso la Cina. Non si tratta delle prelibatezze della nostra tavola o del prodigio tecnico di qualche piccola impresa italiana, ma di un grande della tattica calcistica. Alla fine Marcello Lippi ha ceduto alle lusinghe del Guangzhou, lo squadrone di Canton che è già in testa al campionato con 22 punti in 10 partite, è campione in carica e sogna la Champions, quella d'Asia. Insomma, da Lippi il Guangzhou si aspetta una versione made in China della sua Juventus campione d'Europa nel 1996. Assieme a lui sono stati presentati gli altri italiani da esposizione.